Allora, questo è il video di Creepy intitolato Pokémon è un gioco per bambini Pokémon è un gioco per bambini Non fa piacere sentirselo dire così, vero? Questo video non sarà quello che potreste aspettarvi Non sarà la solita apologia impegnata a dimostrare come i Pokémon siano a fare per persone grandi E no, il titolo non è provocatorio, lo penso davvero Penso che Pokémon sia, al netto di tutto, un gioco per bambini Ma... Dipende Quello che posso dire prima di vedere il video, 18 secondi dopo, è dipende Come? Proprio uno come te, Creepy Che negli anni non ha fatto altro che dimostrare la complessità di questo mondo Prima raccontandone le ispirazioni culturali Poi la trama nascosta E infine sviscerandone le meccaniche che lo rendono complesso Proprio tu che hai fatto di Pokémon una professione Che guadagni dei soldi da tutto questo Proprio tu denigri così la nostra passione Ecco, se avete anche solo pensato a qualcosa di simile A quello che avete appena sentito No, non me ne frega niente di fare content task a un content creator Che impiega tempo, energie Che potrebbe investire in altro A fare questo discorso Però non sono d'accordo con l'affermazione iniziale Non è solo un gioco per bambini Questo video è soprattutto per voi Per voi che avete sentito e sentite la necessità di dimostrare al mondo la serietà di Pokémon Che avete dovuto convincervi e convincere che Pokémon fosse roba da grandi Che fatica a sostenere l'apparente contraddizione di avere impegni, famiglia, lavoro E contemporaneamente essere un ragazzino di dieci anni E immergervi in un'avventura fantastica e immaginaria Piena di creature bellissime e inesistenti Eh, però Intendiamoci La fantasia E la curiosità per determinati argomenti L'amore, la passione per determinati argomenti Non può essere mischiata col fatto che Allora il brand è da bambini Quindi fai una roba da bambini Sarebbe un errore Io dico questo Datemi l'occasione di mostrarvi Certo Un'altra strada Si può ascoltare La mia Benvenuti in questo nuovo video L'altro Creep è sempre molto bravo a fare il video Quindi sono curioso In origine la prima stesura di questo video aveva una declinazione più emotiva e meno esplicativa Ma tra questo copione del precedente sono successe alcune cose che mi hanno convinto ad un restyling di questo video La vittoria di Luca Ceribelli ai mondiali Pokémon La conseguente diffusione della notizia al di fuori dei confini della community Pokémon E i commenti antipatici che ne sono usciti non potevano non avere un impatto su un video La Steffier 23 dall'alto del suo probabilmente non lo so Non aver mai giocato a Pokémon Non aver mai preso in mano una carta Non aver capito cosa può essere il collezionismo Non aver mai letto un manga dall'alto del suo Adesso mi guardo il grande fratello Oddio sta iniziando Tentation Island Può dire adesso esci da casa e fai una passeggiata Uno che ha vinto un mondiale a livello competitivo Ci sta Con questa tematica E allora partiamo proprio da qui Partiamo dal post Instagram di SkyTG24 Dedicato alla vittoria di Luca Ceribelli e dai suoi commenti Madonna Ma non dai commenti che vi aspettereste Non credo che sia davvero interessante leggere le prese in giro No, non lo è Non lo è Non lo è Di essere dei bamboccioni Dei verginelli Degli sfigati Incapaci di stare al passo con il mondo reale I fan di Pokémon Spesso anche rispondendo direttamente Grande da Drake A commenti incriminati Hanno reagito con una rabbia E con una vemenza Che mi sorprenderebbe Se non fossi anche uno di loro E allora mi sono domandato Perché reagiamo così? Perché la È arrivato Pier Cassio Percazioni Conosciuto anche con l'alias di Rocco Siffredi Madonna santissima Lui è un vero uomo macio alfa Lui ha i muscoli Lui Quanto chiava lui Quanto rimorchia Pier Cassio Percazioni Ma solo col nome Fa bagnare le ragazze Buongiorno Come mi chiami Giulia? Piacere Giulia Io sono Pier Cassio Percazioni E ai miei tempi Sai quante fighe abbiamo cacciato? Madonna santissima Bravamca Grazie mille per la chat L'accusa di essere fondamentalmente Dei non adulti Ci fa così male La risposta più superficiale Credo che la sappiate tutti Ed è Perché non è la prima volta Perché E se avete vissuto La community Pokémon Ve ne sarete resi conto Molti di noi Si sono sentiti dire Certe cose per lunghi tratti Della propria vita Se non No Il problema No Allora Attenzione Facciamo subito una distinzione Se questa cosa ti tocca Nella serie Eh Se giochi A Pokémon Non scopi È un problema Perché Stiamo davvero dando peso A un'opinione Che prevede Una condizione d'esistenza Per cui Se tu fai una cosa Non puoi fare quell'altra Sulla base di Nulla Quindi A questo tipo di Commento Non va dato peso Non per una vita intera E perché L'essere considerati E quindi di conseguenza Sentirsi arretrati Rispetto ai propri coetanei Condizioni di cui La passione Per poco Diventa a quel punto Solo una delle possibili Manifestazioni fenomeniche Credo Sia per noi Un trauma collettivo Più o meno grande E allora è evidente Che la reazione Non può che essere Di forte astio Ecco In questo video No 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 A me L'astio La follia La rabbia Me la dà semplicemente Il fatto che è un ragionamento Privo di logica Semplicemente questo Che è un ragionamento Privo di logica Basato su un'interpretazione Soggettiva Di magari persone Che hanno degli hobby Ancora più inutili Ancora più senza senso Che magari Seguono In televisione I programmi più trash del mondo Non vedono l'ora Questo è L'unico motivo Per cui Mi sento Di rispondere Con ironia A determinati commenti Che hanno il peso specifico Di una piuma Questo astio Questo trauma Proverò a raccontarvelo Al meglio delle mie capacità Vi racconterò Della mia esperienza personale Proverò a rifletterla Sui comportamenti Di un intero gruppo di persone I giocatori pokemon E poi Solo allora Messi davanti Al fatto compiuto Proverò a mostrarvi La strada Con la quale In cuor mio Credo di averlo risolto Quel trauma Una strada Che è passata Dall'appropriazione Di quell'offesa E allora Mettetevi comodi ...di passioni naufragate E poi riemersa Negli ultimi tempi Ne ho riscoperta Una che credo Abbia avuto Un percorso Abbastanza simile A quella che ho Tuttora per pokemon Complicato e tortuoso Un giorno forse Vi racconterò Il mio amore Per il calcio Fermo un attimo Fermo un attimo Io che faccio video Sul calcio Guardo i video Di pokemon Di creepy Creepy Che vi vedo Sui pokemon Parla di voler fare Video sul calcio Amico mio L'alleanza Bianco Rosso Nera E pronta A raperire Battenti E è Scagliarsi E attaccare A nostra volta Tutte quelle passioni Che sono un po' più Normalizzate Dal sentire Comune Attenzione La regina di cuori Qua si è sentita Toccata nel profondo E spesso Una delle prime Che viene in mente È per l'appunto Il calcio E i suoi videogiochi Tipo fifa E quindi Mi prendo Questi ultimi secondi Per dire Che vaffanculo Smettiamola Di guardare Le cose sempre In bianco e nero Oh Bianco e nero Lo guardiamo Ma che è Sei matto Delle passioni Non preclude Di averne Delle altre E in generale Dovremmo smettere Di giudicarci A vicenda Tutti quanti E a proposito E a proposito Di bianco e nero Lo sapete Che dopo questo Intermezzo Forza Juve No Parte la host Di Boreduopoli Vero Che palle Pokémon bianco E Pokémon nero Avete capito Che attorno a voi Giocare a Pokémon Stavano iniziando A diventare Sconveniente Mai Quando è uscito Pokémon bianco E Pokémon nero Perché non mi piacevano I Pokémon Quando è scomoda Lo so Quindi rispondo io Nella mia esperienza Ho in testa un episodio Anche se un po' fumoso Immaginate Scuole medie Siamo alla mensa Ad un certo punto Intercetto una convers- La mensa alle medie La situazione scherzosa Tra due ragazzini Certo Facile chiamarli ragazzini adesso La verità È che all'epoca Sembravano immensamente Più grandi di me Di loro Non sapevo nulla Se non che uno dei due Era stato bocciato E che frequentavano La seconda media Insomma Anni luce più avanti di me Che invece ero solo In prima media All'improvviso Tra il clangore Delle posate Le urla attorno a me Distinguono nitidamente Una frase Pronunciata Dal ragazzino bocciato Sei un Pokémon Il tono È dispregiativo È denigrante È denigrante Cosa vuol dire? È un insulto La frase Sei un Pokémon È un insulto Non è rivolta direttamente a me Probabilmente Non sanno neanche Che sto origliando Eppure Come se si trattasse Di un proiettile impazzito Alla fine Quella frase Mi c'entra in giro E ricordo ancora La sensazione di disagio Nel rendermi conto Che a me I Pokémon Piacevano ancora Stop Ci mancherebbe altro Ragazzi Io nel 2016 Quando è uscito Pokémon GO Insieme ai miei amici Non abbiamo dormito Per tipo un'estate intera Andavamo in giro Buttare giù le palestre Prendevamo le macchine Andavamo Siamo andati una volta A Ponte Gradella Voi direte Dov'è Ponte Gradella? Eh Ponte Gradella Cercatelo su World Maps Vicino a Ferrara Perché in una via Perché Ponte Gradella E una via Spawnavano i dratini E noi ci siamo presi su Ci siamo fatti 30 rotti chilometri di macchina Per andare a Ponte Gradella A catturare i dratini Meraviglioso Eccolo lì A me i Pokémon Piacciono ancora Cambia un po' La costruzione della frase Sposta due paroline La prima singolare Diventa la seconda Singolare E perché no? Aggiungiamo Un bel punto di loro Mi segno Ancora ti piacciono i Pokémon? E questa Sì che è familiare Ad un certo punto E credo si tratti Di una esperienza Condivisa da molte Delle persone Che guardano questo video Ed è questa La convinzione Che mi ha portato A realizzarlo Attorno a noi Si smette Di giocare a Pokémon E non tanto Perché passi di moda Quanto perché ormai Si è grandi No 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 Semplicemente Perché non c'è più Tempo per farlo Che è diverso Non lo si fa Cioè non è che si smette Perché oddio Se è grande Non lo puoi fare Ma ragazzi Ma Io so a memoria Tutte le canzoni Dei film Disney So a memoria Le battute Di alcuni cartoni Della Disney E ne vado fiero E sono orgoglioso Sono cose che hanno formato Il mio carattere La mia persona Figurati Se quello può essere il motivo Perché si smette Di giocare a Pokémon Semplicemente Non si ha tempo Meglio Per quel classico Tratto adolescente Io ho un Gengar Tatuato sul polpaccio L'ho tatuato l'anno scorso Ossenziale Che abbiamo mal sopportato Vedere prendere il sopravvento Negli altri Si deve dimostrare Di essere grandi E i grandi non giocano a Pokémon E cosa giocano? Allora beh È semplice C'è scritto sulla confezione Dei giochi E poi Cosa fanno i grandi Di cosa parlano i grandi? Di macchine Armi Sesso? A quel punto capisco E se devo entrare in quel mondo Allora Ma io ho fatto delle serate Insieme a un mio amico Begno Diglielo Scriverlo nei commenti Del video che stiamo ricaricando Sul canale In cui abbiamo bevuto Non lo so 50 birre a testa E ci siamo rimasti Tutta sera A parlare di Pokémon Ed è stato bellissimo Sono le serate più belle Del mondo Ma dai Realizzo che GTA potrebbe essere Un buon videogioco Per le mie esigenze Ma il problema È che non c'è cosa peggiore Che andare a scuola E iniziare ad essere percepito A percepirti come Cronicamente Indietro sulla tabella di marcia Della vita E quindi va a finire Che Pokémon Lo si abbandona Quasi per esigenza O nel migliore dei casi Lo si gioca da soli Nella propria cameretta Se hai conosciuto internet Forse provi a farti compagnia Con qualcuno Che al di là di uno schermo Trasmette e commenta La propria partita Pokémon Eh questo è un peccato Perché significa Che averla vissuta male Probabilmente Cioè Non aver avuto Dei legami Io fino adesso Sto parlando Di Di tante esperienze Tanti Tanti ricordi Insieme ai miei amici Che abbiamo Cioè io mi ricordo Appena avevamo iniziato A prendere i motorini A 14 anni Giravamo in motorino Con i miei amici Quindi sai Anche quel periodo Della vita In cui inizi Ad avere anche Altri interessi Noi giravamo Con il cavo Per scambiarci Pokémon Nel Game Boy Color Nel bauletto Perché era bello così Certo Forse Crederai Di seguirlo Per i suoi tutorial E per imparare Qualcosa di nuovo Ma la verità È che hai trovato Qualcuno Chi non invalidi Un tuo interesse Eh ma perché Probabilmente Ti mancava Quel qualcuno Che invece Non andava Ad invalidarlo Ma bensì Ad alimentarlo Qualcuno di grande Qualcuno Che quella parte Di te Non solo La capisce Ma potrebbe Persino apprezzarla Ma a questo punto Come si fa La validità Di una passione Come si dimostra Al mondo Di essere legittimati A spendere ore e ore Del proprio tempo Su una console Davanti alle televisioni O tra le pagine Di un manga È semplice Devi Dimostrare Che lo fanno Anche i grandi Devi avere Prove Che quella roba lì È da grandi Che anche i pokemon Come quei videogiochi Che parlano Come gli adulti Può essere da adulti Ed inter Ma no Ma non è questo Anche perché È cultura È anche cultura Cioè Io Il mio inglese Che è Basilarissimo L'ho incrementato Grazie alle magiche A pokemon Perché se volevo Leggere le mie magiche In inglese Dovevo conoscere Alcune cose Se volevo giocare A showdown Di pokemon Dovevo conoscere Alcune cose Ed erano in lingua inglese Cioè Banalmente Questa è la La prima minchiata Che mi viene da dire Dire che Una determinata cosa È da grandi O da piccoli A meno che Non sia Veramente Solo ed esclusivamente Pensato per i piccoli Che ne so Non posso dirti No Peppa Pig È anche per I settantenni No Non è vero Non è così Però ci sono Delle opere Che sono pensate Per i bambini Che magari Ti mettano Delle chicche Degli in sé Gioco Comunque Delle modalità Più difficili O delle cose Che diventano In cultura generale Che le fanno Apprezzare anche Dai grandi Semplicemente Internet in questo È stato Un piccolo miracolo Che tempo fa Nell'altra live La pandemia ha aiutato Tanto Il nerding Internet ha aiutato Tanto il nerding Sono d'accordo Anche Big Ben Teori Ha aiutato Tanto il nerding Assolutamente Ed eccoci allora Tornati lì Internet appunto La recente ondata Di video Di cui quello Che state vedendo Fa parte Grande C'è Luca Luca Non ho letto qua Pokémon Card Artwork Se non riesco mai a leggere Gli italiani commentano La guerra social Combattuta Attorno alla vittoria italiana Del mondiale Pokémon È in realtà Solo l'ultima battaglia Di un conflitto Che qui devo essere onesto Soprattutto in Italia Nella community italiana Nel corso degli anni Ha lasciato Numerosissimi strasci Che parlo Del conflitto Sulla non infantilità Di Pokémon E sulla sua Conseguente Rispettabilità sociale Ma posso dire Che Questo Tipo di Contenuto Alimenta Il fatto Che la gente Puoi continui a dire Che Pokémon È da bambini Cioè Secondo me Non bisognerebbe Nemmeno prendersi Da questa roba Tu pensi Che Pokémon Sia da bambini Bene Cazzi tuoi Non sai Di cosa Ti stai perdendo Di tutto il resto Che c'è dietro È nato per quello È partito Per quello Certo Ma tutto il resto Lo stai ignorando Perché sei un ignorante Quindi non devo Dimostrarti Io che non è così Se tu vuoi davvero Affrontare la conversazione Allo stesso livello Di preparazione A cui sono arrivato Io che sono fan Da 20 rotti anni Sei tu Che devi Documentarti Informarti E poi possiamo Fare una discussione Il dare importanza A questo tipo Di opinioni Secondo me È sbagliato Perché Gli vai a dare Un peso Ma questo peso Non deve averlo Perché è un commento Vuoto È veramente Un guscio vuoto E anche solo Una breve ricerca Metti a nudo Una questione collettiva In risolta I pokemon Sono davvero Per bimbi idioti Video di Dario Moccia Del 2012 Eh ma 12 anni fa 12 anni fa Numero 27 Gioco per bambini Un mio video Del 2015 Pokemon è un gioco Per bambini Video di Weedle Del 2016 I pokemon Sono sul serio Per bambini Video di Pokemon Next Del 2018 Pokemon non è un gioco Per bambini Questa è una frase Che trovate Nella descrizione Di ogni video Di Francesco Pardini E potremmo andare Grazie al cacchio Cioè il pardo È un totem Del competitivo Che è complicato È come dire Che gli scacchi Sono giochi per bambini La dama È un gioco per bambini Certo un bambino Ci può giocare Può acquisire Quel tipo di Consapevolezza E di bravura Boh Avanti scavando Tra innumerevoli video Con meno visualizzazioni Ormai andati perduti Nel marasma di internet Ora l'opinione In sé degli youtuber Che hanno realizzato Questi contenuti Ha un'importanza relativa Soprattutto rispetto Alla sezione Commenti Dei loro video Dove attuonare È la vera voce Di una community E cosa dite Anzi mi ci metto anch'io Cosa diciamo noi Di fronte No non è vero Si potrebbe benissimo dire Che anche Magic È un gioco per bambini Allora io Semplicemente ti dico Benissimo Sediamoci Confrontiamoci Facciamo una partita Ma anche a Pokemon Facciamo una partita Competitiva a Pokemon Dato che è un gioco per bambini E vediamo Se è un gioco per bambini Dovrebbe essere una cosa facile Non lo so Montare una sorpresa Degli Vini Kinder Che è un gioco per bambini Anche senza una preparazione Dovrei saperlo fare Allora se è per bambini Ci sediamo Ci facciamo Uno scontro competitivo Guarda io Uso tre Pokemon Te sei Te do il vantaggio Del doppio del team Vediamo se mi batti O probabilmente Semplicemente Non è un gioco per bambini Non te l'accusa rivolta a Pokemon Di essere un gioco per bambini Noi Avvocati di Pokemon Che strategie Esatto Esatto Ti devi buildare Un Pokemon competitivo Con i V E V Nature Moveset Strumenti Certo Io ne scelgo tre Tu puoi usare anche gli Uber Ti lascio libera scelta Prego Vediamo cosa succede Vediamo cosa ne viene fuori Beh La più semplice Cerchiamo di spostare Continuamente L'attenzione Verso certi aspetti di Pokemon Che possano In qualche modo Renderlo rispettabile Socialmente Agli occhi dell'accusa In buona sostanza Cerchiamo Di apparire Meno bambini Rendendo Pokemon Più adulto Agli occhi degli altri Ci lanciamo in sofferte Filippiche Su come la lore Dei giochi E dei film Pokemon Sia profonda E filosofica Sull'ispirazione Culturale Dietro ai loro design Sui dettagli Inquietanti Di questo mondo immaginario Sulle leggende Metropolitane Che lo ancorano Al mondo reale Come la sindrome Di lavandonia Fino ad arrivare a quello Che prima Della stesura Di questo copione Era uno Dei tanti aspetti Ma che ora È diventato Probabilmente Quello principale Ossia La complessità E la maturità Del competitivo Pokemon Ma non solo Ma non solo Ma non solo Con discorsi Ricamatici attorno Riguardo alla maturità Che è necessaria Per vincere un torneo Il premio in denaro Che si può vincere Giocando Ma ecco Il fatto Di dover inserire Il denaro Secondo me È veramente Il voler Giustificare Una cosa Che le persone Non capiscono E basta Do Pokemon Tutte queste Sono le motivazioni Che in larghissima parte Siamo stati Come community In grado Di portare Al tavolo Della difesa Di Pokemon Il problema È che In fondo Ma davvero Tanto in fondo Ci stiamo raccontando Una marea Di cazzate E so che potreste Comprenderla bene Quindi È doverosa Una precisazione Non si Sul piano Sociale Pokemon è un gioco Che in molte Sue diramazioni Contiene degli aspetti Che solo una persona adulta Può comprendere a pieno E forse Il competitivo Pokemon Ne è in effetti La manifestazione Più evidente Quello che voglio dire È che non si tratta Di argomentazioni Di per sé errate Anzi Formalmente Sono anche corrette Pokemon Ha delle componenti mature Le ha il competitivo Le hanno le mie amate Nazlock Lo ha il comparto narrativo Di Pokemon In questo specifico senso Pokemon Non è Almeno Non soltanto Un gioco per bambini È vero Il punto È che a me sembra Che tutti i fan di Pokemon Lo sappiano Che ai fan Questa realtà Appare Chiara e cristallina E allora Perché Nonostante Tutta questa consapevolezza Accumulata negli anni Nonostante Quell'apparente sicurezza Che abbiamo conquistato Nell'affermare certe cose Nel 2024 Reagiamo esattamente Come avremmo potuto reagire Dieci anni fa Perché Eh ma questo è un problema Della persona che si incazza Cioè È come quando Mi scrivono nei commenti Dei video di Youtube Della Juve Arriva E il tizio A casissimo La Juve ruba Siete dei ladri Avete sempre rubato Non dà importanza Sai che è una discussione Tossica Basata su un pregiudizio Basato su una sua Consapevolezza Una sua Verità Che si è ritagliato E l'ha portata Ad essere La verità suprema Non c'è modo Di dialogare Con queste persone La loro opinione vale Meno di zero Le blocchi Per non Dover essere costretto A leggere queste minchiate E vai avanti Stop Nonostante queste convinzioni Non stiamo poi Così bene Quando gli altri Parlano di Pokémon Personalmente Una risposta Credo di averla trovata Non è Che forse Quella logica Che ci osteniamo a seguire È in realtà Uno scudo dietro al quale Molti di noi Si proteggono In fondo È un'arma Un'arma di difenza Difendo la mia Rispettabilità sociale Mostrandoti che Con la mia passione Si può ottenere Quello che ottengono Anche i grandi E cosa ottengono i grandi A questo Ci arriveremo Per ora La precisazione Che voglio fare È questa E ve la riassumo Il punto qui Non è dimostrare Che Pokémon Sia un gioco Che anche i grandi Possono giocare Ad apprezzare Quello lo sappiamo Ma è piuttosto Constatare Che il giocatore Pokémon Ha storicamente L'esigenza Di giustificare Al mondo E a se stesso La propria adultità In relazione Alle proprie passioni Siamo sempre in affanno Per dare un tono A ciò che amiamo E soprattutto Cioè Io vi dico Davvero Sono convinto Di quello che vi dico E non me ne voglia Creepy Perché il video è ottimo Ma non concordo Per nulla Col messaggio Anche a me è capitato Il periodo della mia vita Ora non so Quanti anni abbia Creepy In questo momento Però può essere sicuramente Un riflesso In cui Pensavo che Esprimere Determinate Emozioni Condividere Determinate Passioni Potessero Etichettarmi Come una persona Che Non era proprio Ma quelli Erano Miei ideali Era tutto Nella mia testa E non c'è niente Di più bello Di poter dire Di essere felice Di condividere Con le persone E condividere Con chiunque E avere Delle passioni Che se Non vengono viste Di buon occhio Delle altre persone Non è un problema Mio Ma è un problema Delle altre persone Perché sono Semplicemente Ignoranti Questo è quanto Adesso Non voglio Dire che È Esattamente La stessa cosa Perché Non è la stessa cosa Però penso Che sia Grandi linee Quello Che si prova In un coming out Che è Sicuramente Più pesante Più impegnativo Eccetera eccetera Però tante persone Ti dicono Dopo il coming out Sto decisamente Meglio con me stesso Mi sono tolto Un peso Ecco Credo che sia Bene o male Lo stesso principio In questo momento Probabilmente Creepy sta passando Un momento Un periodo Quello che è In cui Probabilmente Lui prova vergogna A dire Cazzo Ho Non lo so Ho avuto 26 anni 24 anni E ancora gioco a pokemon Chissà cosa pensano Le persone di me Può essere questa La paura Io stesso Io mi ricordo Quando andavo a fare I primi colloqui Di lavoro E comunque Nel mio curriculum Ho sempre avuto YouTube Spiegare che cos'era YouTube Che cosa facevo Su YouTube La gente Dall'altra parte La scrittura Mi faceva gli occhi Così Diceva Questo è pazzo Questo è un Matto È un coglione E la soffrivo Tanto quella roba lì Perché dicevo Ma io sto semplicemente Portando avanti Una passione Perché Per te deve essere Un problema Quale può essere Il problema per te Se io Nel mio tempo libero Decido di fare una cosa Che non ti dà problemi Ed è la stessa cosa Rispetto al giudizio esterno Siamo sempre E cronicamente Sulla difensiva E lo siamo così tanto Che spesso vediamo Di cattivo occhio Chiunque osi Raccontare Il mondo Pokémon In modo diverso E fare un esempio Che nel corso degli anni Mi ha dato molto Su cui pensare Esatto È l'esempio E il caso Di Federico Esatto Oggi per un qualunque italiano Che segue Pokémon È impossibile non conoscerlo Ma quando la mia passione Per Pokémon scoprì Tra 2014 e 2015 Di potersi sfogare su YouTube Prima guardando video E poi realizzandone Federico era sì noto All'interno della community Pokémon Come YouTuber Ma spero mi passi il termine Era uno dei tanti Ad un certo punto Della sua carriera Decide Immagino in piena coscienza Di fare però qualcosa Che in Italia Nessuno aveva ancora provato a fare Non solo intraprese con decisione La strada delle carte Pokémon Ma indirizzò i suoi contenuti In maniera piuttosto esplicita Anche Verso un pubblico Di bambini La scelta è A livello numerico L'unico Ah è arrivato al milione Fede alla fine A dirlo È l'anno del signore 2024 Ma che ebbe Aniche Delle conseguenze Sicuramente più spiacevoli Non solo per Federico Direi per tutti Perché l'accesa di Quel modo di fare Parlare di Pokémon Venne seguita Da una scia di odio Nei suoi confronti Proveniente da una parte Di una buona fetta Della community Pokémon Ma anche lì Dipende che cosa Dipende che tipo di contenuto Vai a vedere Di Fede Cioè Lui ha sempre avuto Tanto amore Tanta passione Per questo brand E penso che l'abbia dimostrato In lungo e in largo Fede è un imprenditore E ha fatto Cioè Chi mi va a contestare Quello che ha fatto Federico È banalmente Un invidioso Perché lui Dalla sua passione Non solo Ha creato un lavoro Ma ha creato Un lavoro Che gli dà Davvero Tanto introito Tanto ingresso Economico proprio Economico Di le persone Che Vanno ad attaccarlo Per questo Non hanno capito Che dietro Tutto questo C'è Una capacità Imprenditoriale Da fare invidia Perché le persone Che partano Da zero O da meno di zero E costruiscono Degli imperi Così Se tu le vai A prendere Per il culo Il coglione Sei tu Il coglione Sei tu Perché mi devi Spiegare tu Che cosa hai fatto Di meglio Di questo Per poter anche solo Sederti al tavolo Della critica Nei confronti Di una persona Come Federic D'accordo È un coglione Va bene Tu che cosa hai fatto Come non hai fatto niente Ma lui ha fatto E tu no È perché lui è un coglione Ah perché sì Perché gioca a Pokémon Chiaro Prendo la tua opinione La metto Nel cestino dei rifiuti Perché non conta un cazzo Quella di cui facevo parte Una community popolata Da quindicenni E sedicenni Che in comune Avevano due cose La passione Per Pokémon Ed etichetta di sfigati Io stesso È quello Un canale Che è questo qui Da cui vi parlo Di qualche È questo il punto Creepy ha paura Creepy è in quel momento Della vita In cui ha paura Perché sta Uscendo probabilmente Dagli anni In cui Si finisca Le scuole Per scuole Intendo anche Università Perché penso Quelli faccia L'università In quegli anni In cui Devi formarti Veramente come Uomo E non più come Giovane uomo Credo che sia Fisiologico Questo suo pensiero Quindi Condivido Anzi Rispetto tantissimo Questo video Ma non lo condivido Lo condivido tantissimo Perché quei momenti Si passano A quella che È l'età di Creepy Non lo condivido Per niente Che migliaio di iscritti Non ne avevo Una grande opinione E vi posso assicurare Che se ho interpretato Nel tempo Correttamente Quei sentimenti Il problema Non era il contenuto In sé Era più quasi Un fatto Di estetica Era più Il messaggio Che trapelava Era l'idea Di Pokémon Che quell'impostazione Trasmetteva Un'idea sacrosanta Ma un'idea Per la quale Pokémon Fosse un qualcosa Di genuinamente Divertente Senza troppi fronzoli Tutto sommato Non così complesso Era l'idea Che si potesse esultare In maniera sconsiderata Per una carta rara Non tanto per il suo prezzo Quanto per la sua Valenza In quanto prodotto Pokémon Ma per il suo amore Esattamente come Facevamo da bambini Se oggi ho una visione Diversa Di quel periodo Che va oltre L'aver compreso L'enorme capacità Di Federick Come content creator Grazie al fatto Che content creator Lo sono effettivamente Diventato anch'io Lo devo anche Ai pensieri Che hanno condito Tutto questo video A 16 anni però C'è che cosa Era piccolino E allora torniamo lì Perché Osservare questo rancore Perché c'è stato un momento In cui in così tanti Abbiamo mal sopportato Un certo modo Di parlare di Pokémon Soprattutto Perché eravamo tutti Così simili Tra di noi Il motivo L'ho già spiegato Grandi linee Rebbe Io credo Un gioco troppo facile A chiamare in causa L'invidia È una risposta Troppo semplice È un punto Troppo garantito No 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 L'invidia Io ho usato La parola invidia Ma soltanto Nei confronti di Federick Perché Ha costruito veramente Un colosso E sul resto Ho già spiegato Se si potesse liquidare La questione Ignoranza Sul resto Che ci sia successo Viene odiato Solo per il fatto stesso Di aver successo Per carità Una piccola parte Della verità Potrà anche risiedere qua Non lo metto in dubbio Ma io credo Che la ragione principale L'ignoranza Sia stata un'altra Perché il desiderio Più grande Di quel gruppo di adolescenti Della mia età Così legati a Pokémon Era che il mondo Prendesse su un serio Pokémon E soprattutto Che prendesse sul serio Loro Ma in realtà È lo stesso principio Della xenofobia Se ci pensiamo È la paura Di qualcosa Che non conosciamo Che si tramuta in odio È lo stesso identico principio Uguale Preciso Doveva essere una cosa seria Dovevamo parlare Dei suoi misteri Dovevamo rappresentarlo Come un gioco difficile Dovevamo conoscere Nella storia Ancor meglio Se era una storia inquietante Dovevamo scoprire Quello che c'era Oltre la sua superficie Bambinesca Dovevamo avere Degli argomenti Per rispondere In qualche modo Anche solo Nella nostra testa Agli attacchi velati Alle cene di famiglia Banalmente Ora Spoiler alert Per chi non ha finito Scarlato e Violetto Però ormai sono passati Due anni erotti Quindi Se non avete finito Mi dispiace tantissimo Tappatevi le orecchie Per i prossimi 12 secondi Per me Scarlato e Violetto È stato Una trama debole A volte Con una rottura di coglioni Legata Agli ostacoli Gli impedimenti Che Il gioco ti dava No devi fare questo Devi andare a scuola Devi ascoltare Wall of text Impossibili Infiniti Blah 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 Non è Il mio gioco Pokémon preferito Però è diverso Però è diverso Perché è arrivato A un certo punto E ti parlo Anche solo Banalmente Guardate il finale Davvero Banalmente il finale Che tu scopri Che in realtà Il professore È un'intelligenza Artificiale E che è Semplicemente Un computer Con dei dati In memoria Che sta recitando Di essere Il vecchio professore La mamma O il papà Del tuo amico Perché in realtà Il genitore È morto Non è un gioco Pokémon Non è Non è un gioco Pokémon È È veramente Un Un essersi spinti Tanto più in là Con audacia Ed è super Rispettabile Grazie mille Gianmarco Per la sub Piccolo mondo digitale Che era YouTube In cui di Pokémon Si parlava seriamente Come seriamente Altri parlavano Di politica Di sesso Di calcio Era per quei ragazzi Una piccola rivincita Un porto sicuro In cui non accorgersi Di quanto Bruciassero Quelle cicatrici Che Pokémon Agli occhi del mondo Non passasse Come qualcosa Frivolo Per bambini Ma io vi faccio un esempio Cioè Adesso Vado a A lanciare una bomba Ma come affronta Pokémon Cydonia Ma lo stesso Creepy A volte Axo Axo Ci sono tanti YouTuber bravissimi Secondo me Di che trattano Pokémon E per fortuna O come tratta One Piece Il re Eccetera Io credo Che sia decisamente Meglio Ascoltare Delle persone Che amano Quello di cui Parlano Lo fanno Con cognizione Di causa E documentandosi Leggendo Ripassando Per cercare Di farti risparmiare Anche del tempo Che avreste dovuto Impiegare te Invece per andare a fondo E molto meglio Di canali O comunque Di telegiornali Di salotti televisivi Che parlano di politica Con i politici Che si mettono lì E si urlano addosso Cose O se devo parlare Del mio partito Semplicemente Invece che lo dare Il mio partito Dico Ah Lo partito Dell'opposizione Sono dei coglioni E' molto meglio Ascoltarsi uno Che mi parla Di Pokémon E mi spiega La lore Di Kalos E perché C'è Quella determinata Quel determinato PNG Dentro quella casa E perché Mi dice quella frase Decisamente di più Era per quelli Come me Fondamentale Ed il taglio Che la popolarità Di Federick Stava dando A Pokémon Riapriva una ferita Cauterizzata male E uscendo Dal caso specifico Di Federick Tutto questo E' successo altre volte Io Quell'odio Quel risentimento L'ho visto altrove Con Pokémon Go Ad esempio Quando una nuova ondata Di popolarità Investì Pokémon E molti YouTuber Generalisti Inizierono a portare Gameplay Dei classici giochi Pokémon Ci fu un'ondata Di sdegno Nei bassi fondi Della community Pokémon Da un lato C'erano i creator Che avevano compreso L'utilità di agganciarsi Mediaticamente A quel treno E dall'altro Ma io penso Che sia anche molto Allora Qua c'è la playlist Di Ciccio Gamer Ora Anche adesso Ciccio Gamer E' lì A aperto un negozio Di carte Eccetera eccetera E mi piacerebbe Davvero fargli Un test di cultura Generale Pokémon A Ciccio Gamer Mi piacerebbe Mettermi qua Io e lui E fare Una sfida Di cultura generale Per vedere davvero Quanto ne conosce Cioè un conto Essere innamorati Del brand Un conto Invece Semplicemente Cavalcare l'onda Della cosa popolare Del momento Come all'epoca Poteva essere Pokémon Go O come adesso Possono essere le carte E c'è una bella differenza C'erano C'erano noi Che ci ripetevamo Costantemente Cosa fosse Tutta quell'ignoranza Perché Ciccio Gamer Non si studia i tipi dei Pokémon Prima di giocare Perché Questa mancanza di serietà Cos'è questa superficialità Cos'è questo modo di giocare Pokémon Così infantile Ed eccoci Anche grazie all'assist Che mi sono fatto da solo Con la storia di Federico A quello che forse È il punto centrale Che nervoso Quando viene utilizzata Una roba soltanto Perché così se ne parla Che nervoso Veramente A me viene sempre Solo da ripeter La parola amore Mancate d'amore Per queste cose Mancate d'amore E quando uno manca D'amore si vede In questo video Io e tanti di voi Abbiamo mal sopportato Per anni Tutto ciò Che in qualche mondo Ci ricordava Che Pokémon È a tutti gli effetti Un gioco per bambini Vi faccio un esempio Stupido Banale Ieri è morto Tutto Schillacci Io Il massimo che ho fatto È stato mettere Mi piace Al post della Juve E ricondividerlo Nelle storie Ho pubblicato Nella community Del mio primo canale Il link Di un video Che ho caricato Sul terzo Un ragazzo Mi ha risposto Con tutto rispetto Ma invece che Questo Non potevi fare un reel Su Tutto Schillacci Io Gli ho detto Chiaro e tondo Quello che pensavo E cioè Gli ho detto Guarda Io Non ho ricordi Di Totto Schillacci Da calciatore Italia 90 Non ero nemmeno nato Non posso mettermi qui A fare un contenuto Su una persona Per il quale Non ho Nessun tipo Di ricordo Sarebbe 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 Sfruttare Semplicemente Il nome di un morto Per veicolare Un messaggio Che non voglio portare Perché so che sarebbe Un contenuto Che non mi rappresenta Il ragazzo Il ragazzo mi ha risposto Ringraziandomi Toriyama Toriyama sarà stato Per parlarci sopra E spesso e volentieri Dimostrare Di essere anche Ignoranti sugli argomenti Community pokemon Di cui ho fatto parte Quella che per anni È stata ossessionata Dallo status sociale Che giocare a pokemon Conferiva Si è dannata l'anima Per rendere pokemon Una passione Per persone adulte Scordandosi però La cosa più importante Perché avevamo tutti Ben chiaro Il fatto di amare i pokemon Ma non sapevamo Perché Amavamo i pokemon E la risposta Era semplice Tanto semplice Non ce l'avevo Voluta far dimenticare Il punto È che i pokemon Ci divertivano Quei mostriciattoli Ci piacevano Ci piaceva immaginare Le loro storie La loro avventura Ci piaceva quel mondo E ci piaceva l'idea Che un ragazzino Potesse vivere Una magica avventura Che lo avrebbe portato Un giorno A vincere Si dio Se giochi con Meganium È giusto che tu Non vinca In realtà però Campionato del mondo E allora non posso Non tornare a Luca Ceribelli E al competitivo di poco Che fa rima con Luca Toselli Tra l'altro Il baluardo Della sua motorità Per quanto serio e complesso Non ha potuto fare a meno Del sogno di un bambino Che amava divertirsi Senza stupide logiche sociali di mezzo E noi anziché parlare Di quanto quel giochino Per bambini Ci facesse sognare divertire Abbiamo parlato Di quanto fosse profondo Di quanto fosse misterioso Di quanto fosse difficile E infine Di quanto Ci si potesse guadagnare sopra Ma non c'è nulla Nulla di più infantile Del divertimento Quello puro Quello scevro Dalle logiche Del profitto Della produzione Dell'utilità E io non credo Che Luca Ceribelli Davanti a quella console Pensassi ai 30.000 euro Che schifo E non credo che pensassi A quanto fosse adulto Quello in cui stava Per diventare Il migliore del mondo Io credo Stasse pensando A quanto Lo avesse reso felice Quel gioco per bambini Credo che Quando la sua mente Non era occupata A vincere un mondiale Stasse pensando Al suo Game Boy E forse al suo Nintendo DS E a quei Pokémon Che lo hanno fatto Innamorare E lo hanno portato Ad essere quello che è E forse allora È rivendicando Quanto sia determinante Essere anche un po' bambini Che ci rendiamo Davvero giustizia Perché per noi Non è davvero importante Che oggi con Pokémon Si possa guadagnare qualcosa Non è davvero importante Che Pokémon Ti possa portare Verso una presunta Profondità di qualche tipo No anzi In live abbiamo droppato Più della metà Degli spettatori Quando abbiamo pensato A parlare di Pokémon E sul secondo canale I video non vengono visti Ma li faccio Perché mi divertono Non sono importanti Quelle cazzate Che tutti abbiamo raccontato Ad un genitore Ad uno zio A un fratello maggiore O a un commento Su YouTube E soprattutto Non è importante Essere adulti Non è importante Essere sempre In ogni attimo Della nostra esistenza Ce lo hanno Voluto insegnare E ci siamo cascati Alla fine Eravamo d'accordo Con tutte le scarpe Ci hanno raccontato Che la serietà È rispettabile Che il gioco è follia Ci hanno raccontato Che si studia Per diventare grandi Non per essere felici Ci hanno raccontato Che l'adulto Pensa al mondo esterno E mai a se stesso Bravo Mai alla propria felicità Bravo Ci hanno raccontato Che questa felicità Si trova nel produrre qualcosa E mai Nell'immaginazione E nei sogni E quando io racconto Delle mie avventure Di Pokémon Immaginando Che dei pixel Alla fine Eravamo d'accordo Maledetto Quando mi affeziono Fosse anche solo Per qualche istante Ad un ammasso Di codici di programmazione Contenuti In una console Non sto facendo Niente diverso Rispetto a quando Da bambino Raccontavo A mamma e papà Di Zamponi Il mio pilota Di Formula 1 Immaginario Che rivaleggiava Con Schumacher Perché affezionarsi? Poverino Schumacher A ciò Che non è reale È la cosa Più infantile Che esista E Pokémon Nella sua essenza Più intima E primitiva È proprio questo E insomma Alla fine Non ho resistito Ad un po' di poetica Al termine di questo video Ma del resto Avevo avvisato Che l'emotività Sarebbe saltata fuori È già buono Che non abbia pianto Avevo anche preparato Una conclusione Ad effetto Per questo video Però ci rinuncio Volentieri Per fare Un'ultima considerazione Che secondo me È utile Per dare La giusta quadratura Del cerchio Nella speranza Che sia passato Il messaggio corretto E che si sia capito Perché In fondo Pokémon è E rimarrà sempre Un gioco per bambini Torno a parlare Un po' di me Questo video Ve lo anticipavo È un po' La materializzazione Di come In qualche modo Quel piccolo trauma Per me È stato superato Però appunto Piedi Piccolo Perché io Medi A dirla tutta Sono stato fortunato Perché nonostante la voce Di quel ragazzino Alle scuole medie Mi abbia perseguitato Per tempo Nonostante la solitudine A cui Pokémon È stato relegato Nella mia cameretta Io certe cose Non me le sono sentite dire In faccia Finché non sono finito A fare video Sui social Lì O meglio Qui Ogni tanto È successo E succede tuttora Ma ho avuto La fortuna Di aver fatto Di quella passione Infantile Il mio lavoro E a quasi 25 anni Quella passione La posso coltivare Ed eventualmente Chiamare in causa Il mio conto bancario Per giustificarla No no Ma no Ma no Ma non flexare i soldi Ma no Ma lascia stare Che sia anche Per via di questo Il mio benestare Non ha senso Non solo farmi questa idea Ma anche venire qui A dirvi In sostanza Che giocare Secondo le regole Di chi vi denigra Non è una bella idea Il punto è che Temo sia facile per me Che quella partita La posso vincere facilmente Dirvi che dovreste reagire A chi vi dà dei bambini Rivendicandolo E allora Per farmi perdonare Vi mando un abbraccio So che esistono casi In cui una passione È ancora motivo di vergogna Che esistono contesti In cui la pressione sociale È troppa Per ignorarla È esattamente quello che ci fa Manca le video di Dario Moch Però e forse in questo Sarò un po' ingenuo Spero che questo video Vi abbia Quanto meno Lanciato un input E spero che rimanga Nella vostra testa Come ricetta Per vivere meglio Che si parli di Pokémon O di altro Ricordatevi sempre Di chiedervi Cosa vi rende felice E soprattutto Di chiedervi Perché lo fa Io vi ringrazio Per aver guardato Questo monologo Di 30 minuti Su un argomento Un po' trituritrito Spero di aver Noi l'abbiamo analizzato Credo in un'ora Detto delle cose Un po' più interessanti Rispetto alla media E vi saluto Vi ringrazio per la visione Se volete iscrivervi al canale Iscrivetevi Un mi piace Un canale Twitch Faccio live di Pokémon E il mio main content È raccontare avventure Emozionandomi E provando ad emozionare gli altri Beh allora Io sono contento L'ho visto questo video In primis Perché è un bellissimo video E in seconda battuta Sono contento Perché poi alla fine Siamo stati d'accordo Anche sulla conclusione Perché per larghi tratti Pensavo che Finisse in modo Completamente diverso Perché mi sembrava Dire delle cose Che andavano veramente Nella direzione opposta Per fortuna Non è stato così Bravo Creepy